Buonasera carissimi amici, eccomi qua un po' in anticipo per augurarvi serena serata di San Silvestro e che questo maledetto 2020 a mezzanotte si porti via tutto il bagaglio negativo degli ultimi mesi anno 2021 forse, speriamo, forse sarà pieno di rinascita, di orizzonti nuovi, di speranze sicuramente non porterà ancora la risoluzione definitiva a tutti i nostri problemi però dobbiamo rimanere speranzosi e non perdere mai voglia di combattere e di resistere che sia un anno colmo d'amore, d'affetto, forse ancora a volte a distanza però per affetti, per il calore umano e per il pensiero non esistono né frontiere né distanze io sono in questo momento molto lontana da voi però siete tutti nel mio cuore e nonostante questi tanti 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 chilometri vi porto sempre con me e spero di riabbracciarvi tutti il più presto possibile Buon anno 2021 amici!